Vittoria importante, tanti gol, però hanno vinto anche le altre per la lotta al secondo posto. Ci credete ancora? Sì, sì. Noi abbiamo fatto un partito molto interessante, abbiamo fatto tutto il lavoro importante con tutta la squadra e quindi un vittorio importante per continuare a credere in questo secondo posto. Nelle ultime tre partite, due vittorie e un pareggio, quanto pesa la sconfitta con il Milan? Quanto pesa la sconfitta contro il Milan? Una sconfitta un po' brutta perché penso che abbiamo fatto una partita giusta, abbiamo due gol a vantaggio e poi abbiamo fatto 15 minuti e abbiamo forse perso la fiducia e quindi era difficile, questa partita era molto difficile ad accettare. Ecco, oggi ti abbiamo visto larga sulla fascia ma spesso volentieri giochi punta centrale, dove ti trovi meglio? La coach gioca in punta, in esterno, per me è la stessa cosa, è il mio lavoro di aiutare la squadra e quindi per me è uguale. E il coach ti chiede cose differenti a seconda di se giochi punta centrale oppure esterna? Dipende la squadra, a volte lei mi chiede di rimanere un po' più larga per fare le cozzine in profondità e quando gioca in punta per aiutare la squadra a giocare con uno o due tocchi, quindi è differente però ho fatto tutto questo bene. Senti, contro il Milan e la Fiorentina avete giocato bene, alla pari, cosa manca a questa squadra per fare l'ulteriore salto di qualità? Penso che siamo una squadra ancora un po' giovane, dobbiamo imparare tutte le cose per fare le partite un po' più su tutta la partita, quindi forse a volte manca un po' di concentrazione o un po' di stanchezza, però penso abbiamo ancora qualche partita per fare questo lavoro e forse l'anno prossimo era ancora meno. Avete ipotecato praticamente la semifinale di Coppa Italia, quanto credete, quanto ci pensate a questo trofeo in questa nuova stagione della Roma femminile? La Coppa è un obiettivo davvero, abbiamo fatto una partita molto seriosa contro San Martino e l'andata, quindi adesso pensiamo ad andare se possibile in finale perché devo vincere il trofeo, penso va bene per i tifosi. Siete cariche per poter andare in finale? Eh sì. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Ciao.